Sono Juan Luis Loppe, responsabile del marketing dell'ufficio spagnolo del turismo e associati ovviamente ad Utei e noi in questo 2010 vogliamo presentare come prodotto speciale il Cammino di Santiago perché questo anno è l'anno compostelano, un anno molto importante nel quale si potrà arrivare al cammino facendo diversi percorsi dal cammino classico francese, il cammino del nord, il cammino portoghese e soprattutto raggiungere il giorno più importante che è il giorno di San Giacomo nel quale tutta la città di Santiago di Compostela offrirà uno spettacolo impressionante a tutti i turisti che andranno lì in quei giorni. Vi ringrazio e spero di vedervi a tutti in Spagna.